Presidente, il CONI ancora una volta a fianco della manifestazione di vela, l'importanza degli sport acquatici per la Regione? E' il ruolo del CONI, gli sport acquatici sono una della componente perché ovviamente ci sono gli sport di terra, gli sport di montagna, noi abbracciamo 47 federazioni ma quella degli sport nautici è una cosa che ci riempie di orgoglio perché sfruttiamo i quasi 800 chilometri di costa che noi abbiamo, poi la ottava zona ha lavorato bene, ha coinvolto tutti i circoli e i circoli oggi sono qui con quello di Trani della Lega Navale che organizza una manifestazione più che importante. Grazie.